Questo programma è offerto da... Officine.pro, metterci alla prova, conviene. I motori delle Formula 1 sono tornati a rombare, ragazzi. Noi in questa puntata presenteremo tutte le vetture che saranno protagoniste nel Circus Iridato in questo 2020. Le immagini sono pronte, ce ne saranno veramente delle belle. Tutti i team hanno presentato la propria vettura, noi la nostra Formula 1 ce l'abbiamo nei nostri studi televisivi. Benedetta Pettinari. Buonasera, buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. Questa sera, oltre a mostrarvi le immagini del Circus Formula 1, vi mostreremo anche dei consigli utilissimi grazie a GroupAuto.pro. Assolutamente, quindi un motivo in più per seguirci. Oggi parleremo di fari LED grazie all'azienda Osram. La puntata sta per partire ufficialmente e noi oggi abbiamo l'inviato di LiveGP, collaboratore della testata giornalistica, e con noi Stefano De Nicolò. Buonasera. Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Iniziamo a parlarvi subito della squadra campione del mondo, la Mercedes, che ha nel suo pilota di punta il sei volte campione Lewis Hamilton. Esatto, cosa ci dice a riguardo... Sì, una Mercedes che si è presentata in superforma, togliendo i veli dalla W11, una vettura veramente estrema che ha alzato subito, immediatamente oserei dire, l'asticella per tutti gli altri. Nel momento stesso in cui è stata svelata, veramente si è rivelata in tutte le sue forme estreme e in tutta la ricerca aerodinamica che il gruppo di ingegneri guidato da James Ellison ha messo in campo per la stagione 2020. Una macchina che, come tutte le altre che correranno questo campionato, risulta essere un'evoluzione delle vetture 2019. Tutti quanti stanno un po' aspettando la rivoluzione regolamentare che arriverà nel 2021. Intanto questa stagione ci offrirà degli spunti di riflessione sicuramente interessanti. Abbiamo visto già con la Mercedes, poi lo vedremo con tutte le altre macchine, soluzioni davvero estreme, portare veramente ai limiti quello che abbiamo visto lo scorso anno. Stefano, la Mercedes secondo te sarà ancora la squadra da battere? Non può che essere così Riccardo, per lei parlano i numeri, parla un gruppo di lavoro veramente eccezionale che ha saputo mettere in campo una modalità anche operativa, totalmente nuova. I sei titoli consecutivi costruttori sono veramente un traguardo importantissimo. La Mercedes ha dominato di fatto e continua a dominare l'era ibrida della Formula 1 che è iniziata nel 2014. Riparte dalle 15 vittorie su 21 gare dello scorso campionato, quindi non può che essere la squadra da battere, assolutamente sì. Dalla Mercedes poi passiamo alla Ferrari che quest'anno schiererà la SF1000. Sì, SF1000 che è stata presentata a Reggio Emilia con una grandissima cerimonia. Siamo tornati a vedere le presentazioni Ferrari di una volta, quelle che ci piacciono, quelle veramente anche pompose se vogliamo, perché la presentazione di una Ferrari è sempre un evento. Lo è stata per la città di Reggio Emilia e lo è stata anche un po' per tutta l'Italia, perché come sempre è per la presentazione di una nuova Ferrari. Una macchina che riparte assolutamente dal buon prodotto del 2019. La SF90 aveva degli ottimi punti di forza, si è lavorato soprattutto nel cercare di recuperare quella velocità in curva che spesso è mancata, a fronte anche di qualche chilometro orario di velocità di punta in rettilineo, che abbiamo visto che era una delle caratteristiche migliori della macchina nello scorso anno. Ecco, i cavalli rampanti di Vettel e Leclerc saranno da tenere a bada? Questa sarà assolutamente la prima sfida che dovrà affrontare la Ferrari, prendi tutto internamente. Mattia Binotto è chiamato a un compito decisamente non facile. Vettel e Leclerc sono due campionissimi, l'abbiamo visto lo scorso anno, sanno darsi fastidio, sanno anche spingersi a vicenda. Sarà assolutamente fondamentale per la buona riuscita della stagione gestire la rivalità tra i due. La Ferrari ha puntato decisamente su Leclerc con la sua estensione di contratto fino al 2024, un fatto che non si era mai visto per un pilota così giovane. Sta aprendo in questi giorni anche alla possibilità di un rinnovo di Sebastian Vettel per il futuro. Ricordiamo che il tedesco ha il contratto in scadenza alla fine del 2020. Dunque sicuramente il panorama della Ferrari sarà molto interessante da valutare. Leclerc è velocissimo sul giro secco, abbiamo visto Vettel che deve ritrovare anche un po' la sua dimensione di leone in gara. Binotto ha dichiarato che i due drivers della rossa partiranno alla pari, dobbiamo credere alle sue parole? Sicuramente sì, come è stato anche per lo scorso campionato. Quest'anno naturalmente Leclerc ha dalla sua il sostegno del pubblico, ha dalla sua i risultati che ha saputo raccogliere lo scorso campionato. Sette pole position, due vittorie, un buonissimo palmarès per un pilota così giovane come lui. Vettel non ha bisogno di presentazioni, quattro titoli mondiali parlano per lui. Naturalmente, come hai ricordato tu Riccardo, deve ritrovare un po' quella fame anche, gli occhi della tigre, in un certo senso che ha dimostrato di avere un po' smarrito nelle ultime stagioni. Ora ragazzi, parliamo della vettura che può essere la vera antagonista di Mercedes e Ferrari, ossia la Red Bull. La Red Bull di diritto entra nel novero delle favorite, per quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno, per la penna di Adrian Newey che è sempre pronto a trovare soluzioni tecniche ingegnose, per un pilota come Max Verstappen che è sicuramente uno dei talenti migliori della nuova generazione. La Red Bull deve ripartire da un ottimo rendimento sul finale della scorsa stagione, riparte da un motore Honda che ha saputo riscattarsi dagli anni bui, se vogliamo, di quando Alonso era in McLaren, eccetera. Quindi sicuramente una squadra da tenere d'occhio. L'abbiamo vista la macchina nella presentazione, anche lei estrema, nelle forme, nelle pancie strettissime, una ricerca aerodinamica esasperata, anche nel muso sottilissimo, quindi sicuramente da tenere d'occhio a Red Bull. Max Verstappen potrà essere da titolo in questo 2020? Max Verstappen è sicuramente un pilota da titolo, Max Verstappen è, assieme alle Clerc, senza alcun dubbio, il talento della nuova generazione, un pilota capace di far vedere cose straordinarie in pista, che ha mostrato una maturazione evidente nel corso della sua carriera, quindi sicuramente con una macchina adeguata. Lui l'ha dichiarato peraltro più volte, non vede l'ora di lottare ruota a ruota con Hamilton, quindi ci aspettiamo di vederne delle belle. Secondo me quest'anno l'olandese sarà veramente da tenere sotto controllo. E ora passiamo alla Renault. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo team? La Renault è un po' un mistero, un po' una perla grezza. Lo scorso anno ha deluso, non giriamoci intorno, presenta una line-up di piloti di primissimo ordine quest'anno con Ricciardo, che già lo conosciamo molto bene, grandissimo campione, Esteban Ocon, che ritorna in Formula 1 in pianta stabile con il ruolo di prima guida. Anche lui uno dei migliori talenti tra i giovani, quindi sicuramente una line-up di piloti da tenere d'occhio. Una squadra che però, nonostante gli investimenti importanti, sia in termini economici che in termini anche di risorse umane, non è riuscita a mostrare quello che ci si aspettava da loro. La presentazione della vettura, peraltro, è stata sui generis, perché è stata una presentazione senza la macchina. Infatti la stiamo vedendo in questo momento. Sono stati mostrati solo dei rendering della macchina, che verrà poi svelata ufficialmente durante i test di Barcellona, però sicuramente punta al quarto posto tra i costruttori per migliorare il risultato della scorsa stagione. Benissimo, noi andiamo un attimino in pubblicità al nostro rientro. Ragazzi, parleremo ancora tanto di Formula 1. A tra poco. Signori, benvenuti a bordo. Il viaggio può iniziare. Mettetevi comodo. Nini Virta. Velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta. Un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID. Per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta. La prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta. Da oltre 30 anni. Tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it Ancora tantissima Formula 1 in questa specialissima puntata di Orres TV. Dopo avervi presentato i primi team, è ora tempo di fare un focus sulle altre squadre. Esatto, giusto Benedetta. Ora ci catapulteremo sulla nuova Alfa Romeo che ha appena fatto lo shakedown in quel di Fiorano. E noi, grazie al giornalista Marco Amendola, abbiamo delle immagini veramente esclusive. Benedetta, tu come l'hai trovata questa Alfa Romeo? Molto aggressiva, no? Molto aggressiva, molto aggressiva. E Stefano, tu invece come hai trovato la C39 di Kimi Raikkonen? È stata una bellissima presentazione, in un certo senso. Non ufficiale secondo i canoni della Formula 1, ma uno shakedown in pista a Fiorano è sempre un'emozione. L'Alfa Romeo è parsa subito bellissima con questa livrea camouflage ideata dal centro stile di Alfa Romeo. È chiamata assolutamente a un riscatto dopo la stagione passata. Riparte da Kimi Raikkonen, campione assolutamente ormai consolidato, che affiancherà il nostro Antonio Giovinazzi, capace di guadagnarsi un bellissimo rinnovo in Formula 1. Ha conquistato i suoi primi punti mondiali, quindi sicuramente questa dovrebbe essere la stagione della sua consacrazione. L'Alfa Romeo ripartirà da una stagione, come ho detto, non esaltante, che ha visto i due piloti alternarsi a vicenda durante la stagione, superando il compagno. Ha però patito in tanti gran premi delle strategie molto complicate, delle scelte discutibili. È stato molto difficile raccogliere dei punti importanti che avrebbero potuto raggiungere. Quest'anno sono chiamati assolutamente al riscatto. È stata, come abbiamo ricordato, la prima vettura a scendere in pista. A Fiorano, sempre un'emozione, si è comportata bene, la vedremo in pista a Barcellona per svelarne le forme definitive. Bene, Toro Rosso sotto il nome di Alfa Tauri, invece. Una presentazione in grande stile la loro. Vuoi spiegarci il perché di questo cambio nome? È stata una presentazione assolutamente in pompa magna, veramente. Senza badare a spese, a Salisburgo, l'Alfa Tauri ha svelato la sua nuova vettura. Una macchina bellissima, dai colori rinnovati. Una vettura che, possiamo dire, assomiglia più alla Red Bull che non alla vecchia Toro Rosso. Segno che è comunque il salto di qualità nelle intenzioni perlomeno evidente. Dunque, la nuova stagione riparte dai piloti Kiviat e Gasly, confermati dal 2019. Il nome è Alfa Tauri. Il nome è una scelta di marketing, un rebrand voluto dalla Red Bull, naturalmente, per lanciare il suo nuovo marchio di abbigliamento che vedremo in pista da quest'anno in Formula 1. Quindi un'operazione anche commerciale, lo vediamo dalle immagini. Esatto, stiamo vedendo una presentazione veramente sfarzosa. In pompa magna. Ci piace però tornare a vedere un po' di queste presentazioni come una volta. Anche perché la Formula 1 deve essere spettacolo, sia in pista che fuori, secondo me. Quindi, sicuramente, complimenti all'Alfa Tauri. Vedremo i suoi driver come se la caveranno quest'anno. Ci sono molte aspettative, invece, in casa McLaren. La McLaren è un'altra grandissima attesa da questa stagione. La McLaren è un'altra grande decaduta, se vogliamo chiamarla così. Vivrà questa stagione come una transizione verso un probabile ritorno tra i grandi già dal 2021. Quest'anno abbiamo visto una macchina assolutamente estrema. Lo possiamo intravedere dalle immagini con delle scelte tecniche, ad esempio, sulle sospensioni anteriori che mai si erano visti su delle macchine di Formula 1. Loro ripartono, assolutamente sì, da una coppia di piloti fantastica. Perché Sainz e Lando Norris si spingono veramente a vicenda. Sono molto amici tra loro. Sono giovani, sono veloci. Sono assolutamente una coppia di piloti fantastica. Che stanno facendo un ottimo lavoro, lasciami dire, anche esterno alla Formula 1, intesa come azione in pista. Perché loro, assieme a Leclerc, Vettel e questi giovani ragazzi, stanno riportando tantissimo pubblico verso la Formula 1. Che si era forse un po' perso negli ultimi anni. Questa è una bellissima cosa. Infatti è una coppia che stimo e mi piace molto anche a me. Benedetta. Infatti questa coppia si è dimostrata essere molto competitiva nel 2019. Assolutamente sì. L'abbiamo visti molto attivi anche sui social. I due ragazzi sono veramente simpatici, sono veramente disponibili, sono veramente anche veloci in pista. Ci faranno vedere sicuramente qualcosa di importante. La McLaren riparte dall'unico podio conquistato la scorsa stagione. Un ottimo risultato, considerate le annate difficili. Possiamo dire, Riccardo, che in un certo senso ha fatto bene alla McLaren il divorzio alla Honda. Perché con la Renault si sono in un certo senso ritrovati. E anche evoluti, perché no? E stanno risalendo molto bene la china verso le posizioni di vertice in cui vorremmo sempre vederli. Ora andiamo in casa AS. Stefano, raccontaci quali novità svelerà questo team per il 2020. Dunque l'AS è stato il primo team a pubblicare i render della nuova vettura. La presentazione ufficiale avverrà però solamente a Barcellona. Anche loro puntano sulla stabilità. Piloti, Grosjean e Magnussen, Guntersteiner al timone della scuderia. Quindi una line-up confermatissima. Una vettura che si è mostrata più che altro come, in un certo senso, un'evoluzione della Ferrari in alcune sue parti. Parti della Ferrari del finale della scorsa stagione. Ed è chiamata anch'essa una conferma. Perché l'AS ha sicuramente sottoperformato nel 2019. Ci si aspettava di più. Abbiamo visto tanti errori anche da parte dei piloti. Insomma, la scuderia spesso con le idee un pochino confuse. Vedremo cosa succederà anche per questo team. E in ultimo, Benedetta... Chiudiamo con la Williams, che sicuramente sarà in attesa di riscatto dopo un 2019 da dimenticare. Assolutamente sì. La Williams arriva dalla peggiore annata della sua lunghissima e gloriosa storia in Formula 1. È chiamata a un recupero quanto mai repentino. La line-up dei piloti è cambiata. Giorgio Russell affiancherà a Nicolas Latifi. Su una vettura, che l'abbiamo vista in presentazione, punta tutto sullo sfruttamento della power unit Mercedes. Quindi più efficienza aerodinamica, migliorare i flussi, migliorare il raffreddamento. Insomma, da quello che abbiamo visto la scorsa stagione, ci vorrà anche poco per fare meglio. Quindi l'obiettivo della Williams per il 2020 è assolutamente togliersi un po' dal fondo dello schieramento in cui l'abbiamo vista per tutta la stagione in maniera anche un po' triste. Bene, noi per queste presentazioni Formula 1 in versione 2020 vi abbiamo raccontato un po' tutto. Grazie al nostro Stefano De Nicolò, che ricordiamo collaboratore di LiveGP. Noi ti ringraziamo tanto per questo. Grazie a te Riccardo. Grazie Stefano. E voi ragazzi non cambiate canale perché tra pochissimo ci saranno dei consigli utilissimi per voi automobilisti. A tra poco. Ci prendiamo cura noi della tua auto. Ma i ricambi sono di qualità originale equivalente. Certo. Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta? Naturale. Officine Punto Pro. Metterci alla prova conviene. Garantisco io. Il tuo sogno in pista propone a tutti gli amanti del brivido e della velocità una possibilità unica. Diventa pilota per un giorno e prova anche tu, presso il mitico circuito della Formula 1 di Monza, le performanti Lotus marchiate il tuo sogno in pista. Vuoi stupire? Acquista le gift card personalizzate del tuo sogno in pista. Regalerai una giornata di pura adrenalina. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti dal giro singolo a turno in pista da 25 minuti. Per avere tutte le informazioni e le date disponibili www.eltuosogninpista.it E ora, come anticipato a inizio trasmissione, spazio dedicato a voi, automobilisti. In questa puntata, grazie a Gruppauto e Punto Pro, vi parleremo di lampadine per la vostra auto. Presente in studio l'azienda Osram, oggi rappresentata da Arnaldo Agnolon, sales manager appunto Osram. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Vi sveleremo tutto sull'azienda Osram, prima però può partire questo video. Per viaggiare tranquillo la sicurezza è fondamentale. Mantieni alta la visibilità e gli standard della tua vettura. Il mio meccanico.pro ti spiegherà come fare. Sono Pietro, meccanico Punto Pro. La sostituzione delle lampadine in auto è un'azione molto complessa. Le luci delle auto sono sempre più sofisticate per offrire la migliore illuminazione possibile ad ogni vettura. Eppure sono spesso un elemento sottovalutato, soprattutto nella consapevolezza di cosa implichi a livello di sicurezza avere una illuminazione adeguata mentre guidiamo. Occorre perciò affidarsi ad un esperto, come ad un'officina Punto Pro, dove utilizziamo sempre lampadine di qualità originale o equivalente per mantenere valida la garanzia della tua auto. La visibilità è importante. Oggi parliamo delle lampade Osram. Antonio, mi aiuti tu? Certo, Osram è il partner ideale per un'automobilista. E garantisce prodotti di qualità OEM che superano i requisiti degli standard ECE. Scegli le lampade Osram Night Breaker Laser, con una luce del 20% più bianca e un fascio luminoso fino a 40 metri più lungo, per assicurarti una migliore visibilità e quindi una maggiore sicurezza. Provano anche tu, ti aspetto da Punto Pro. Metterci alla prova conviene. Osram è un marchio storico nell'illuminazione. Quali tipologie di prodotti offre agli automobilisti? Osram, ovviamente, come hai già detto tu Riccardo, è un'azienda storica, un'azienda che ha più di 100 anni, da sempre nel settore automotive. Os è stata la prima azienda a produrre la lampada Bilux, quella lampada che appunto fa sia abbaglianti che anabbaglianti, ancora quasi 100 anni fa, nel 1925. E ora offre tutta una serie di prodotti che forniamo in primo impianto, ma soprattutto anche per il mondo dell'aftermarket, dei prodotti a valore aggiunto, quindi con prestazioni differenti dalle lampade che vengono montate in primo impianto e che offriamo a tutti gli automobilisti, quindi con lampade che possono avere una prestazione superiore in termini di luminosità, che quindi significa più sicurezza perché essere ben visti è importante e vedere più in avanti si ha più tempo di reazione per evitare gli ostacoli. Ovviamente OSA poi ha tutta la gamma dei prodotti nelle diverse tecnologie disponibili, quindi sia per le lampade alogene, lampade all'oxeno e anche le lampade della tecnologia più moderna e innovativa che sono le lampade a LED, il cui nostro orgoglio principale è che il centro di ricerca e sviluppo e anche la produzione di queste lampade ad altissima tecnologia LED è qui in Italia a Treviso dove le produciamo e le progettiamo, quindi lampade alle prestazioni straordinarie. Made in Italy. Made in Italy, assolutamente made in Italy. Quali sono le particolarità dei fari addizionali abbaglianti a LED? Allora, anche agli automobilisti, soprattutto anche nell'ambito motosport, dato che di questo argomento si parla in questa trasmissione, offriamo prodotti come possono essere questi abbaglianti addizionali a LED, sono delle barre, qui c'è solo un esempio, ma le offriamo in diverse misure e prestazioni, sono assolutamente omologate, per cui le possono usare anche gli automobilisti per andare nella strada normale come abbaglianti addizionali omologati, ma ovviamente sono accessori fondamentali per coloro i quali corrono ad esempio i rally e soprattutto in notturna dove avere un'illuminazione straordinaria è assolutamente fondamentale. Sono prodotti che arrivano a fare un'illuminazione fino a 450 metri di distanza, quindi davvero spettacolari. Uno stadio illuminato. Assolutamente, certo. Tra l'altro i rallysti vi ringrazieranno perché la notte, eccetera, potete far veramente la differenza per la prestazione di un pilota, grazie all'illuminazione consona? Assolutamente sì, come dicevo, abbiamo questi prodotti, ce ne sono di diversi tipi, quindi con aperture di fasci diverse, con concentrazioni di fasci diverse, in base a proprio le esigenze del rallyste, in questo caso che ha appunto assolutamente necessità di avere un'eccellente illuminazione, soprattutto in notturna. Tecnologia e sicurezza, come vi muovete in questi termini? Allora, come accennavo prima, le lampade che Osram offre sono tutte le tecnologie, sono tutte omologate, quindi chiaramente quando si parla di lampade anche all'oxeno, offriamo anche sull'oxeno delle lampade che offrono una prestazione superiore in termini di quantità di luce, quindi anche qui maggior sicurezza, e lo stesso discorso vale anche per le lampade alogene, come si accennava prima. Quindi all'interno della gamma di prodotti di Osa, ogni automobilista può scegliere delle lampade particolari che noi chiamiamo appunto a valore aggiunto, che offrono appunto una prestazione in più, che può essere in termini di quantità di luce, quindi di sicurezza, in termini di design, quindi una luce più bella, più fredda, piuttosto che di durata, perché all'interno della nostra gamma offriamo anche delle lampade che durano di più delle lampade normali, in modo tale che anche questo vuol dire sicurezza, se ho una lampada che dura di più, ho meno pericolo di rimanere con la lampada bruciata, mentre sto viaggiando, soprattutto di notte è pericoloso. In un'epoca dove ormai le macchine sono piene di illuminazioni particolari, penso che anche voi dall'azienda Osram andate a nozze su questo. Certo, diciamo che soprattutto anche con l'evoluzione delle auto nuove, si parla di mobilità anche elettrica, piuttosto che auto ibride, cioè l'illuminazione anche con la guida autonoma, se vogliamo, c'è e ci sarà sempre, perché è assolutamente fondamentale per viaggiare sia di giorno che di notte. Perfetto, ragazzi, naturalmente se anche voi volete montare delle lampade Osram, potete andare sul sito www.pro.it e trovare l'autofficina che ve le può fornire più vicina a voi. 1.200 ce ne sono in tutta Italia. Mi raccomando, Benedetta, controlla i fari della tua vettura. Controllo sempre, controllo sempre, sono brava. Esatto, se no Arnaldo si arrabbia. Certo. Noi ringraziamo Arnaldo Agnolon. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie Arnaldo. Benedetta Pettinari. Grazie Ricky. E voi ragazzi, non cambiate canale, grazie per averci seguito. Alla prossima. Ciao. Questo programma è stato offerto da Officine.pro Metterci alla prova conviene. Grazie a tutti.